Siamo qui in conferenza stampa per la presentazione del calendario 2020 12 scatti contro l'indifferenza. Siamo alla non edizione, grande successo, Napoli risponde bene. Quest'anno il tema della disabilità è affiancato a violenza sulle donne perché disabile non è solo colui che ha una deficienza psicomotoria ma disabile anche colui come in questo caso le donne che subiscono violenza che non si sentono adeguate perché violentate nell'animo e nel fisico. La nostra associazione nasce a fianco delle famiglie e dei bambini disabili che dopo due anni alcuni dei nostri bambini sono diventati adolescenti, siamo stati a loro compleanni, hanno compiuto 18 anni e non ce la siamo sentiti di abbandonarli. Il progetto per la comunicazione alternativa continua e continuerà per sempre perché il disabile non ha un inizio e poi una fine ma si nasce disabile e purtroppo per tutta la vita lo si è. Noi genitori di ragazzi speciali purtroppo ci dobbiamo confrontare su una società che è falsamente accogliente e io oggi sono qui perché questo vuole essere anche un segno di ringraziamento verso la dottoressa Manfellotto dell'associazione ANEF perché non vi dico l'unica ma forse non vado lontano è stata una persona che ha creato dei momenti che poi si sono rivelati fondamentali per mia figlia per lo meno e parlo per me e anche degli altri ragazzi che perché purtroppo a noi ci vengono sistematicamente legate le terapie e queste terapie oltre a fare la loro funzione di migliorare la vita dei ragazzi ma sono anche un momento di aggregazione cosa che i nostri figli hanno bisogno. Sono la mamma di Joan e Lisette, sono due bimbi colombiani che stanno con noi da più di due anni e che grazie a Carmen abbiamo vissuto insieme a Gaia e a Francesco questa bellissima esperienza. Io da quel giorno porto un pensiero nel cuore, penso che anche i miei bimbi abbiano avuto una forma di disabilità, una disabilità affettiva, avevano paura di non essere amati e paura di amare e sono stata contenta che loro abbiano visto che ci sono tante persone, ognuno vive la sua battaglia e hanno conosciuto Gaia, una ragazza che porteremo nel cuore perché mai nome fu più adatto, lo dico sempre, e ringraziamo Carmen perché veramente quel giorno ce lo portiamo nel cuore e quindi facciamo tanto, tanto tifo per questa, per H.N.F.S. perché noi ci sentiamo parte di questa famiglia. Allora sono due argomenti molto importanti, molto complessi e anche molto diversi e per quanto riguarda la disabilità io facendo queste foto con i ragazzi disabili ho percepito diciamo quello forse un po' più da vicino perché ho passato più tempo il loro modo di comunicare che comunque è molto coinvolgente e molto fisico anche e niente e sicuramente quello che ho pensato è che diciamo le persone non sono preparate o comunque devono fare un passaggio perché a volte l'imbarazzo, il non saper cosa dire, cosa fare, ti pone in una condizione di non comunicazione e comunque invece loro sanno cosa fare, siamo noi che siamo un po' impreparati. Invece per quanto riguarda la violenza sulle donne credo che ci sia un percorso da fare abbastanza lungo però necessario perché perché si limiti questa insomma questa dilagante tragedia anche dei rapporti tra uomo e donna sia con l'insegnamento sia col togliere diciamo quello quello che sono i preconcetti che poi anche nel piccolo tra uomo e donna insomma si si vivono quotidianamente e dare sostegno alle donne che hanno questo 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 problema con i compagni con i mariti e far capire loro che è importante uscirne denunciare e uscirne per loro e per i loro figli. Il nostro percorso si è intersecato con quello di questa associazione meritoria ANEF che sostiene naturalmente bambini portatori di disabilità, di sofferenze, di criticità fisica e qualche volta anche psicologica. In questo percorso ormai che dura da più di un lustro abbiamo pensato che il nostro ruolo coniugando il nostro ruolo in maniera un po' differente pensando non soltanto all'attività tradizionale, imprenditoriale, bancaria ma anche a quella di dare un sostegno, stendere una mano agli ultimi, a chi soffre, ai malati, a coloro che hanno bisogno di uno nostro sostegno. Questo avviene ormai da cinque anni, siamo felici che oggi una delle protagoniste che è Gaia realizzi l'obiettivo della maggiore età, noi le siamo vicino e giornate come queste oltre che far splendere il sole nella nostra città solidale ma evidentemente riempiono anche di energia e fabbricano fiducia e speranza per chi ne ha bisogno. Sono Carlo Morelli, direttore dello spettacolo D'Ezza Napoli Live Show, siamo a fianco all'associazione Canici 1FS in questa manifestazione del giorno 13, ci auguriamo che venga tanta gente perché è una manifestazione importantissima a fianco delle persone che hanno problemi, disabilità e tanto altro. Quindi vi aspettiamo giorno 13, ore 19.30, Museo Dio Cesano. Grazie.